Di ritardo? L'assessore mi sta chiamando. Pronto, assessore? Sì, sto arrivando adesso. Mi sto mettendo in macchina adesso. No, non è a te che stai a vedere. Ho preso tutti i documenti. Adesso arriva il tempo... Il tempo di mettermi in macchina. No, di prima mattina fa la voce così, che cambia di stagione. Sto arrivando, 10 minuti sto là. Sto andando a lavorare. Alea i acta est. Trombibus deformis... Vai, vai, sì. Ciao, ciao. Sì, che vuoi? Mi ha messo il pagliato. La mia auto è... Non vedevo l'organizzazione. È andato via? Sì, è andato via. Adesso che ci do, che ci do? Che ci do, che ci do? Poi c'è il tempo a disposizione. Sì. Ci chiudiamo. Sì. 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 Ma... Sì. Tanto tempo tutto per noi. Eh... Eh... Come tanto tempo tutto per noi? Tanto tempo. Che non una mezz'oretta abbiamo. Una mezz'oretta? Scusa. Eh sì. E mo' è andato a lavorare? Eh lo so. Ma mio marito alla regione lavora. Poi tra mezzo sta di nuovo a casa. Poi... 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 Poi...